Entrambe vincenti domenica Vasto Marina Avezzano ripropongono lo stesso motivo tattico e tecnico con l'eccezione pesante da parte dei locali di Fieroni e Avantaggiato e Santone appiedato dal giudice mentre Torti con Crass a mezzo servizio parte con Bisegna come interno di mezzo campo 4-3-3 dei locali più in risposta al 4-3-1-2 degli ospiti. Inizio di gara praticamente acceso all'ottavo triangolazione ficcante dei padroni di casa De Vizia pennella in area per l'inserimento di letto che anticipa tutti e insacca in rete. Non regge Granché il vantaggio locale perché nel giro di tre minuti pendenza riceve da sinistra e colpisce a rete. Debole in verità ma angolato e vincente per l'1-1. Minuto 14 ancora Avezzano e il turno di Dos Santos che chiama in causa Marco Nato da corta misura in replica assolutamente decisiva. Gara che si mantiene abbastanza equilibrato poi un botta e risposta al 37esimo Braghini. Bisegna pendenza rasoterra potente fuori bersario al quale fa replica Fitti al 41esimo con un drop dagli sviluppi di calcio da fermo. Negli spogliatoi si va per il teccaldo sull'1-1 e così in apertura di ripresa l'Avezzano alza la voce, chiude i padroni di casa nella propria area e al quarto l'intervento di Marco Nato su Braghini costringe il direttore di gara a fischiare il penalty. Dal dischetto Dos Santos manda portiere a destra e palla a sinistra. Sorpasso compiuto. Ancora sei minuto di puro dominio e dal termine di una azione veloce dal tasso tecnico assoluto Selle spinge in rete un pallone predestinato 1-3. Vasto Marina che scompare dai radar per 20 minuti e poi rinviene in occasione della concessione del penalty che riapre la partita. Donatangelo rovina sul letto in area e così dà la possibilità a Triglione di trasformare il calcio di rigore decretato dal direttore di gara per la rete che riapre la contesa. Messe di sostituzioni, tanto cuore biancazzurro, Lavezano abbandona il fioretto per la sciabola, perde Besana al novantesimo per doppio giallo ma coglie anche due legni in pieno recupero. Il primo al novantunesimo quando Dos Santos si mette in proprio e centra il palo pieno e al novantaquattresimo quando una deviazione su Catalli manda la palla a baciare il legno traverso. Alla fine applausi per la squadra di casa, per la capolista, quinta vittoria consecutiva e vetta consolidata. Mister, una gara gagliarda in cui sono stati 20 minuti di blackout nella ripresa, dopodiché siete rinvenuti e ve le siete giocate fino all'ultimo secondo? Sì, se proprio bisogna dirla siamo veramente contenti. Abbiamo avuto delle defezioni importanti, nell'economia anche dei nostri equilibri dei giocatori sono imprescindibili e insostituibili, però se devo fare dei complimenti oggi la dedico ai ragazzi, alla società, allo staff, al direttore, a tutti perché comunque chi ha giocato ha fatto quello che avevamo programmato di fare. Se l'Avezzano non ha giocato non per demeriti, ma sicuramente per meriti da squadra avversaria, magari in quei 20 minuti probabilmente bisogna dare anche, come dire, valore aggiunto all'Avezzano, che è una grande squadra, però il fatto di tenerla in bilico fino alla fine c'è veramente, c'è tanta amarezza sicuramente. Però anche tanto orgoglio. Tanto orgoglio, orgoglio ferito sì, perché secondo me il pareggio oggi ce lo meritavamo e non credo di esagerare. Allora direttore, un successo che forse è sembrato un po' sofferto, ma a 20 minuti della ripresa in cui avete calato tasso tecnico elevatissimo, velocità e lì avete messo in la gara. Bravo, hai esaminato perfettamente la gara. Purtroppo abbiamo preso questo rigore vitabilissimo perché altrimenti stavamo giocando benissimo. Poi siamo rimasti anche in dieci, non abbiamo sofferto granché, però capisci che un rimpallo, un qualcosa può succedere qualsiasi cosa. Allora l'importante è aver vinto. Poi abbiamo preso anche un pano alla traversa, quindi penso che abbiamo legittimato alla grande anche questa vittoria.